Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Per completare il PNRR. Tutti gli sforzi devono essere tesi a fare in modo che le risorse PNRR siano salvaguardate e vengano spese. Per questo c'è un problema, se volete parliamo anche del codice degli appalti. Voi siete stati critici come terzo polo. Noi siamo a favore del nuovo codice degli appalti, vogliamo che si realizzi questo codice. Siamo delusi dal risultato perché il codice degli appalti aveva una mission che era quella di offrire soluzioni complessive. Perché qual è il problema del nostro paese? Il problema del nostro paese è che le regole non funzionano, sono farraggine, troppa burocrazia, rallentano troppo i processi. E fino ad oggi noi per bypassare quelle regole abbiamo scelto altre strade. Regole speciali per il PNRR, commissariamenti per le opere sbloccate. Allora serviva il fatto che tornasse l'ordinario a funzionari ad essere semplificato un provvedimento monstro di 229 articoli che lascia le imprese di fronte a tre binari. Perché oggi le imprese si sono di fronte a tre diverse regole. Da una parte ci sono le regole per gli appalti PNRR, dall'altra le regole per le opere commissariate e infine le regole che vengono introdotte al nuovo codice degli appalti. Cioè un imprenditore, un'azienda che deve realizzare un'opera, un'amministrazione che deve commissionare, che deve eseguire lo svolgimento di un'opera, si trova ad operare con tre ambiti, tre regolamenti molto diversi. Questo produce complicazione e non semplificazione. Quindi noi siamo favorevoli a che questo nuovo codice si realizzi. La legge delega del governo Draghi abbiamo contribuito a farlo e a portarlo avanti. Siamo però perplessi perché pensiamo che ci sono alcune cose positive. Ne cito una, tutto il percorso di digitalizzazione è importante e funziona. Ma diciamo attenzione perché così com'è, non assolve il compito, non è sufficiente a sbloccare quei meccanismi che ci riescono a non solo portare a casa gli obiettivi PNRR, ma anche a sbloccare il sistema nel suo complesso che non è solo PNRR. Voglio farvi vedere una cosa.